Spese più contenute quest'anno per i pesaresi e in generale l'assenza dei turisti che pesa non poco sugli acquisti. Ma in Piazza del Popolo, dopo lo stop dello scorso anno per via del Covid, i mercatini inaugurati il 27 novembre registrano un bilancio tutto sommato positivo. Siamo contenti, non possiamo fare paragoni perché i paragoni non sono possibili, però dai noi non ci lamentiamo, siamo contenti che siamo qua a lavorare, un po' di gente c'è, non c'è tanto l'afflusso come gli altri anni, si vede proprio la carenza dei turisti, degli stranieri, però dai va bene, il bilancio è positivo. Tra gli artigiani in piazza c'è anche chi è presente con i propri prodotti artigianali da oltre dieci anni. Dal 2009 a Pesaro, sì siamo molto contenti, poi rispetto all'anno scorso quest'anno è successo, l'anno scorso non c'era niente, quindi insomma c'è un po' meno vivacità in generale, però dai va bene, insomma siamo contenti noi. E tra gli acquisti che vanno per la maggiore, sicuramente quelli in pelle come le cinture realizzate da Patrizia Capasso. Specializzati in cinture in pelle e monili, monili sempre in pelle e in legno, in più facciamo anche bracciali, sempre tutta la nostra produzione. Qual è il capo più acquistato? La cintura, in assoluto, la cintura definisce un outfit sempre, in ogni caso, poi dopo ci sono le preferenze, più alta, più bassa, più sottile, insomma, però definisce sempre l'outfit, diciamo, di classe. Hanno un movimento, diciamo, un po' minore rispetto alla media, insomma, normalmente, ma ce l'aspettavamo comunque. Grazie.